Questo è il working group 1, quello delle basi scientifiche. In working group 2 ci sono anche gli etologi, i biologi, i sociologi, gli economisti. Questi invece sono i climatologi, cioè la base proprio. Allora pensate che il working group 1, primo capitolo, prima frase, dice che è inequivocabile che l'attività umana ad aver generato il global warming. Cioè è come le Genesi, è come il Vangelo di Giovanni, è come la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Nella prima fase c'è già tutto. È inequivocabile? Cosa vuol dire inequivocabile? Vuol dire basta Bianca Berlinguer. Basta, basta, non parliamo più, non facciamo più talk show su sta roba qui. È inequivocabile, cioè non se ne parla più.